Ora, se un tale appello fosse fatto anche a voi, cosa fareste? Vi fu un lungo attimo di flesso. Poi, un curiere gridò. Viva l'Italia! Di quella penna che noi portiamo, è la bambiera, è la bambiera, è la bambiera, è la bambiera, è la bambiera. Sono l'onore di noi soltà! Grazie a tutti. Un tratto. Ma uno sparolo! Ho un inganno del senso! Ma lo ecco le altre, anche ancora! Che c'è? Hai sentito? Dove è andata? Vado un porco ordini a vedere che cosa succede! Ma prima, ma prima che il soldato sappiasse, arrivò un uomo dei posti interni con un biglietto. Ora è quattro e dieci. Comunico che nella protezione distante è stato aperto un fuoco di pugilieria senza effetto, ma il pacco di vela un risveglio. E qui sull'alte, sull'alte, non lo sai, non lo sai, c'è tutta Italia e al fianco ci sta. E qui sull'alte, sull'alte, non c'è nulla sull'alte. Sognati! Qui c'è un biglietto che vorrebbe essere saltato! Alla sverzata, morana su sud. E qui sull'alte, E qui sullevò lo sguardo bagnato dalla pioggia. E le guance erano rigate da grosse gocce che parevano la parte di me. Beh, allora se non va nessuno! Se non è, cosa vuoi? Lasciami, cambierò! Lui non va a lasciare il suo posto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.